Ciao. Ciao. E' quello? Franchino il Mudo. O barattamo che i gemelli e il Piragna già si è preso. Però, vanno qua. Hai visto, no? Criticavi tanto. E poi in vacanza ci sei finita pure te. Io sono innocente. Sì, sì. Comunque non ti preoccupare, non ho detto niente Alessio. E da quando in qua vi sentite voi due? Da quando mi chiama. Guarda che Alessio mi va bene a me. Voi vedi hai volte l'assurdità della vita? Eh. E che vi raccontate? E a te che te frega. Ti preoccupare che una figura paterna ce l'ha? Te invece stai ancora col Ministro? No, senta. Io non sono un Ministro. No, no. Io non sto proprio con nessuno. E comunque non ti riguarda. No, per carità. E che mi stavo a preoccupare. Dico, vuoi vedere che Monica Vorella si è messa in testa che a frequentare intellettuali diventa meglio pure lei? Ah, no, no. Tranquillo. Frequento solo un prete. L'aiuto da una mano ai disagiati recenti e ai boracci titolari come noi. E questo qua che c'è sta a fare? Scusi, questo sarei io. Giovanni qua ce lavora. E mi ha trovato pure in posto. Ma perché parlate di me come non ci fossi? Hai capito, Giovanni? È un paraculo. No, è gentile, penso. Allora perché non gli hai da una mano a te? Io gliela darei volentieri, ma a quanto pare secondo Monica non ho l'ascendente che ha lei sui criminali.